Si svolgerà lunedì 14 marzo alle 10.30 presso il Teatro Stabile di Potenza la cerimonia di premiazione del concorso indetto dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza per la realizzazione di un logo per l'identificazione dell'organismo istituzionale. Saranno presenti Valentina Critelli, vincitrice del programma Rai e ti lascio una canzone, e Stefano Cesare Mele, giovane universitario di Calvello. In una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza, il garante Vincenzo Giuliano ha spiegato i motivi dell'iniziativa. Per dare ai ragazzi la possibilità di identificare nel logo i loro diritti, per cui guardare il logo significa ricordarsi puntualmente di ciò che a loro tocca. Hanno partecipato tante scuole, tantissimi ragazzi, per dire la verità abbiamo avuto anche difficoltà nella scelta, una scelta che è la scelta dell'idea, non abbiamo guardato all'aspetto artistico, perché su questo poi ci sarà l'adeguamento al sistema mediatico da parte dei ragazzi del Liceo Artistico Musicale di Potenza, perché adotteranno meglio con i dovuti accorgimenti tecnici l'idea progettuale che questo ragazzo che ha vinto ci ha suggerito.